La Banca d'Italia commissaria la Banca Popolare di Bari e nel governo allo stesso tempo è scontro sul suo salvataggio. Se infatti da una parte è stato disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo in ragione delle perdite patrimoniali, dall'altro versante il governo non è riuscito a varare il decreto per portare in salvo l'Istituto di Credito Pugliese con un intervento attraverso un aumento di capitale di medio credito centrale. La crisi della Banca Popolare di Bari provoca così dissapori e malumori all'interno della stessa maggioranza. Le tensioni sono scoppiate sin dal momento della convocazione del Consiglio dei Ministri indetto per varare un decreto che secondo l'ordine del giorno avrebbe dovuto porre le basi per la realizzazione di una banca di investimenti. Italia Viva ha disertato la riunione. E il Ministro Teresa Bellanova su Twitter ha spiegato le ragioni. No, Italia Viva non è diventata irresponsabile. Siamo pronti a salvare gli istituti di credito insieme ai risparmiatori e posti di lavoro, ma non senza aver accertato le responsabilità che le hanno portate a quella situazione, ha commentato il Ministro Bellanova, denunciando allo stesso tempo di essere stata avvisata della riunione con estremo ritardo. E a prender tempo e a porre un freno momentaneo al provvedimento è stato poi anche il Ministro Luigi Di Maio. Abbiamo sempre detto aiuteremo i risparmiatori, non i banchieri, ha precisato il capo politico del Movimento 5 Stelle. In questo momento c'è un problema con la Banca Popolare di Bari. Ma noi dobbiamo andare a vedere a chi hanno prestato i soldi. Pensiamo a un decreto che aiuti i risparmiatori, non gli amici delle banche. serve una riflessione sul decreto. Il veto del Movimento 5 Stelle così blocca di fatto il provvedimento. Il problema però è solo rinviato. Un intervento si rende necessario per garantire l'operatività della banca. E per questo a breve, fa sapere il Premier Conte, ci sarà una nuova convocazione del Consiglio dei Ministri. Intanto il leader della Lega, Matteo Salvini, auspica un comitato di salvezza nazionale in soccorso della Puglia e dei Pugliesi. E a scendare in campo è stato anche il sindaco di Bari, Antonio De Caro. Il governo deve assolutamente intervenire per salvare la banca, così come è accaduto per altre realtà del nostro paese. Altrimenti esisteremo allo sgretolamento dell'intero tessuto economico della città e oltre 70.000 famiglie perderebbero i loro risparmi. E nel bel mezzo di accese discussioni, diffuse preoccupazioni, l'Istituto di Credito Pugliese prova a lanciare un messaggio tranquillizzante. La banca, si legge sul sito, prosegue regolarmente la propria attività. La clientela può pertanto continuare ad operare presso gli sportelli con la consueta fiducia.